Bentornati ai miei scomunicati, un nuovo video velocissimo, è un annuncio, stasera saremo live sul canale Sebigigames, cercate esattamente questo su Twitch, oppure in descrizione c'è il link per andare a mettere il follow. Finalmente dopo, allora oggi è il 23, giovedì, dopo 6 giorni da sabato 18 che il buon Crokouts ci ha droppato la Kay, finalmente siamo riusciti a far partire sto cazzo di gioco che è, signori miei, esattamente Valorant, signori. Ce l'abbiamo fatta, quindi stasera lo streameremo, se volete avere la possibilità di droppare la Kay, venite a seguirmi, basta stare con noi e semplicemente avrete la possibilità di ottenere la chiave per entrare nella Closet Beta. E stasera saremo con i WZ, saranno invitati nel mio canale e poi altri ragazzi dello staff a giocare. Non so se avremo anche Gufo, speriamo di sì, ma non ne sono sicuro perché probabilmente sta streamando, in questo momento io sto giocando il video oggi pomeriggio, sta streamando, Crash permettendo perché prima è crashato e avevamo a giocare insieme, e stasera non sappiamo se avrà sessione, insomma giochi di ruolo, se ci sarà. Quindi mi raccomando, passate perché c'è la possibilità di droppare Valorant e c'è la possibilità di vedermi tiltare come un porco ragazzi, perché questi giochi qui a me fanno veramente partire di cervello. Io vi ringrazio, noi ci vediamo fra poco per un altro video, forse se riesco addirittura due, allora sicuramente uscirà un video estratto live di Salmon che abbiamo fatto settimana scorsa con Luca Ginesi. Visto che ci siamo ringrazio Crokouts ancora perché ragazzi mi ha creato un account e mi ha droppato la chiave questo ragazzo, è veramente da baciare proprio, e poi ringraziamo anche Luca per la possibilità di portare le sue Salmon sul canale. Poi vedremo se riusciremo anche a portare qualcosa sulle prime torri di fazione, oppure se riusciremo a portare qualcosa sul PvP, ma ne dubito perché Condor è un attimino un da farato oggi. Io vi ringrazio e noi ci vediamo prossimamente per un video, oppure stasera in live alle 9 e 9 e un quarto. Grazie a tutti.